Buongiorno amici di Nexus Lab, sono Alessandro e qui davanti a voi potete vedere il LG L70, il terzo modello, il rappresentante della terza serie degli smartphone L-Style di LG, smartphone molto di successo, tra i più venduti nella categoria di prezzo sotto i 200€, LG punta tantissimo e con questa nuova terza serie che perde un po' la classica nomenclatura, cerca di rinnovare in alcuni punti mantenendo però le basi che hanno garantito il successo di questi smartphone. Noi proviamo l'L70 che secondo me è lo smartphone più rappresentativo, l'L7 e l'L7 II, infatti sono stati più venduti, sia come rapporto qualità prezzo infatti sono tra i migliori. Andiamo a scoprire il contenuto della confezione, confezione estremamente compatta, andiamo ad aprirla, dove il colore rosso di LG predomina in ogni parte. Carica batterie universali da viaggio di LG, molto classico, con il cavo USB e micro USB, cuffie auricolari di fattura abbastanza bassa, sinceramente non ci troviamo di fronte a una qualità molto elevata. Andiamo invece a scoprire adesso lo smartphone, togliamo tutti i soggetti esterni. Smartphone che si presenta esteticamente molto bene, qua si vede il passo in avanti fatto da LG, ma direi di parlare subito di dimensioni, dato che ci troviamo di fronte a un 127 x 66 x 9,5 mm di spessore, queste sono le dimensioni dello smartphone. Molto compatto, estremamente ergonomico, infatti ci troviamo di fronte a solo 126 grammi di peso, molto poco, molto poco per uno smartphone comunque dalle dimensioni piuttosto importanti, a livello di display è comunque un 4,5 pollici. Vi mostro subito la cover posteriore, cover che mi ha piacevolmente colpito, con questa texture in rilievo, molto ben fatta, un ottimo grip, restituisce veramente ottime sensazioni. Parte frontale che ricorda da vicino sia il Nexus 4 che il G2, con questa capsula auricolare molto bella, e queste linee della parte bassa ben rifinite. Anche in questo caso un bellissimo lavoro di design fatto da LG, sempre cercando di portare in avanti questa serie che raggiunge un nuovo massimo, secondo me, a livello estetico, con queste linee nuove. Andiamo adesso a accenderlo, cover extraibile e con batteria ricaricabile. Unica pecca, ma questo in generale, in diversi smartphone, in LG, in quasi tutti, abbiamo l'altoparlante posto in basso nella parte posteriore, piuttosto scomodo, lo vedremo poi nel dettaglio più tardi. Tasti posti sulla cornice che hanno un ottimo feeling, veramente ottimo, sia il bilanciere del volume sia il tasto di accensione e spegnimento. Abbiamo il tasto di sistema che funziona anche da LED di stato, infatti si illuminerà quando avremo una notifica, tasti soft touch, classico del menu, e l'indietro, classico anche questo di Android. Andiamo ora a sbloccare, abbiamo inserito una sequenza GNOCK per lo sblocco personalizzata, questa è già una delle feature che ci fa scoprire sin da subito come LG voglia trattare quasi nel medesimo modo smartphone di fasce molto diverse, dal G2 al questo L70. A livello hardware inizierei appunto col display, 4,5 pollici, risoluzione non altissima ma comunque più che sufficiente, i pixel non si vedono neanche da vicino, cosa che aiuta soprattutto nella lettura dei testi, come potete vedere i pixel comunque difficilmente si riescono a vedere, in questa risoluzione 800x480 pixel. Bellissimi display IPS di LG, forse sono tra i miei preferiti, per alcune, per soprattutto la luminosità e la gamma colori, mentre quelli a AMOLED di Samsung si fanno apprezzare per altri motivi. molto bello quindi, molto luminoso, adesso abbiamo messo luminosità al massimo, ve lo abbasto solo un po', altrimenti non riuscite più a vedere il telefono. A livello hardware non ci troviamo comunque di fronte a una rivoluzione, abbiamo comunque un processore da 1.2 GHz, è un codivato da una Dreno 305 e 1 GB di RAM, quindi è un po' limitato a livello hardware, ma ci troviamo di fronte comunque a un telefono dal costo di 160-180 euro, non sicuramente un mostro di potenza, ma che adesso vedremo a livello software, non si percepisce questa mancanza di potenza assoluta. tendina, tendina classica di LG, come potete vedere abbiamo tutti gli elementi rapidi posti in ordine, possiamo riordinarli con il tasto modifica e disattivarli. Molto ricca, abbiamo il Quick Memo che ci consente di prendere appunti direttamente al schermo e lasciarli in sovraimpressione, come potete vedere, funziona ormai classica, che se avete visto una nostra precedente prova di un LG, trovate in praticamente tutti, abbiamo anche il Qslide, che dopo vi mostrerò soprattutto col browser, e abbiamo tutte le altre scorciatoie, che possiamo disattivare o attivare servizi, come l'NFC, l'Hotospot, eccetera, eccetera. Abbiamo anche il Qslide Apps, possiamo attivare un'applicazione direttamente in questa modalità, come potete vedere, abbiamo già il browser aperto, direi di provare direttamente il browser. Il Qslide cosa ci consente di fare? Di avere almeno un'applicazione che sfrutta la grandezza del display, ovvero quindi poter utilizzare l'interfaccia, impostare una trasparenza, e nel mentre quindi utilizzare due applicazioni, nel medesimo momento, magari con un 4.5 pollici viene un po' difficile, ma per alcune operazioni può essere comodo. Togliamo il Qslide, andiamo direttamente al browser web, visto che ci siamo, andiamo sul sito Nexus Lab, Allora, navigazione è piuttosto veloce, lo scroll non è proprio fluidissimo, presenta qualche micro lag, ma proprio poca cosa. Adesso siamo collegati tramite Wi-Fi, possiamo scorrere fino in fondo, come potete vedere, senza grandi problemi. Proviamo ad aprire un altro articolo, eccoci qua, come potete vedere, sia il rendering, sia lo scroll, è tutto piuttosto veloce. Il browser poi standard DLG, presenta dei tasti personalizzati, l'indietro, l'avanti, la casa, più per raggiungerlo ai più visitati o ai preferiti, eccetera, eccetera, tasti che magari in Chrome non si trovano. Troviamo inoltre anche la possibilità di attivare il multitasking, tenendo premuto, possiamo cancellare tutte le applicazioni, aprire il Tax Manager per vedere le app che più consumano o quanto consumano di memoria. Tra le app preinstallate troviamo appunti, che è un classico memo che non ha niente di particolare, possiamo sia scrivere che disegnare a mano libera, niente di trascendentale, ve lo risparmio nel dettaglio, e troviamo diverse app di LG dedicate ai servizi, servizi tra cui troviamo lo store di LG, LG, lo smart word, a cui dovremmo accedere con un account LG, molte app esclusive ne abbiamo veramente poche nello smart word, quindi l'incentivo per attivarlo è abbastanza basso, la radio FM che funziona, naturalmente con gli auricolari, che funziona da l'antenna, funziona benissimo, più che mai gradita, abbiamo poi il LG backup, funzionalità che è sempre molto, funziona molto bene, LG, questa funzionalità ormai la inserisce dappertutto, e riusciamo a salvare diversi dati sensibili automaticamente, pianificandoli in pochissimi passaggi, Abbiamo il centro aggiornamenti, ora vi faccio vedere a che versione di Android siamo, generali, info sul telefono, informazioni sul software, siamo già come potete vedere a KitKat, quindi lavoro perfetto di LG, nell'integrare anche in uno smartphone non di altissima gamma il KitKat, in effetti l'ottimizzazione di questo sistema si denota sin da subito, molto fluido, non si vede che siamo comunque di fronte a un telefono a 160-180 euro, funziona tutto molto bene, abbiamo qualche micro lag ogni tanto, ma niente di particolare, mentre siamo sui messaggi, vi mostro la digitazione testo, veramente molto veloce, niente da dire, o molto veloce, 4.5 pollici, io mi ritrovo benissimo con le tastiere quarti di queste dimensioni, abbiamo o la possibilità di inserire il tastierino dei numeri in alto, o di default li troveremo in seconda funzione a riga alta, qua basterà a deciderlo noi, potremmo deciderlo senza problemi, impostando impostando nel menu o questa funzione, nel menu della tastiera LG, veramente ottima, niente da dire in questo caso. Abbiamo poi inoltre la multimedialità, direi, prima di passare per la multimedialità, vi mostro la qualità della fotocamera, fotocamera 5 megapixel, con in effetti un po' poco dettaglio, però scatta abbastanza bene, sicuro un 8 megapixel avrebbe fatto piacere, però non ci si può lamentare. Scatto, scatto molto rapido, adesso senza flash, troviamo anche una buona qualità delle foto col flash, soprattutto a livello di bilanciamento del bianco, vi mostro lo scatto, fatto molto veloce, allora il dettaglio non è al massimo, però come potete vedere la piccola texture dell'LGG2 viene comunque colta, senza flash, un po' più sfocato, naturalmente la messa a fuoco con situazioni più buie viene messa a rischio. Abbiamo qualche modalità, un po' poche, abbiamo quella panoramica, i scatti continui e quella sportiva, sicuramente in altri prodotti troviamo molto di più da questo punto di vista. E queste sono le impostazioni manuali, come potete vedere in questo momento scattavamo a 3, possiamo anche scattare a 5, cambierà soltanto la cambierà sì il dettaglio ma anche il tipo di foto di formato ve la mostro a 5 non cambia più di tanto abbiamo leggermente un formato maggiore comunque abbastanza buone le foto non ci possiamo lamentare anche per i video video che vengono girati senza nessun problema vi mostro la parte multimediale per apprezzare due aspetti che in positivo ci hanno abbastanza colpito andiamo nella nostra cartella di test solita iniziamo con Shakira allora audio altissimo veramente alto ottimo lavoro dall'altoparlante di sistema ma stessa cosa dalla capsula auricolare in chiamata ci sentono veramente bene noi sentiamo veramente bene un ottimo telefono è un ottimo telefono anche per quanto riguarda il viva voce in macchina sentiremo senza problemi non avremo una gamma di suoni altissima suoni bassi non vengono praticamente riprodotti ma non pretendiamo la luna da un telefono di questo tipo proviamo a visualizzare qualche video la puntata precedente come potete vedere gli avi senza problemi vengono riprodotti passiamo al nostro solito mp4 per apprezzare un po' anche i colori un po' più chiari come potete vedere è un prodotto a 360 gradi completo così di tutto fotocamera che fa belle foto altoparlante che si sente bene display molto luminoso non con altissima risoluzione ma più che sufficiente di un 4,5 pollici abbastanza fluido magari non potremo giocare a giochi più performanti al massimo del dettaglio ma funziona tutto funziona tutto bene l'EG ha fatto un ottimo lavoro e per 160-180 euro abbiamo uno smartphone con Android KitKat curato ergonomico è fatto bene quindi possiamo consigliarlo c'è sempre l'ostacolo del Moto G Moto G che è un concorrente diretto anche se a livello di ergonomia forse questo LG L70 ci piace maggiormente mentre a livello di ottimizzazione del sistema operativo un po' più avanti Motorola quindi un prodotto da tenere sotto controllo esteticamente molto bello molto curato se avete domande o dubbi o volete semplicemente farci una domanda anche extra potete scriverci sia qua su YouTube o sia nei commenti nell'articolo dove vi risponderemo molto ma molto prima un saluto da Alessandro per Nexus Lab di all'articolo sul Mexico il l' recursos di all'articolo